Possa essere un modo per conquistare e in questi casi, ad esempio, invadono lo spazio personale. Quindi se una persona è possessiva, vuole invadere il tuo spazio personale, ti mette dei vincoli, ti mette delle cose, mandala a fanculo. Fondamentale è questo. Allora, questo è un punto fondamentale. Le persone manipolatrici non hanno idea di cosa sia l'identità, lo spazio privato e possono essere, diciamo, da questo punto di vista paragonati a un parassita, diciamo, no? Per cui entrano, tendono di entrare dentro violando i confini della persona. Quindi quando hai a che fare con persone estremamente possessive, gelose, che non rispettano la tua privacy, mandala a fanculo. Le persone manipolatrici non capiscono cosa, non si assumono responsabilità, è sempre colpa degli altri. Quindi questa è un'altra caratteristica, no? Se ti affibbia sempre la colpa di qualcosa, manda a fanculo, perché devi toglierti dai maroni tutta questa tipologia di persone. Le persone manipolatrici predano la tua sensibilità. Quindi quando incontrano una persona gentile e disponibile, se ne approfittano e quindi, appunto, diventano poi approfittatori. Quando incontro una persona approfittatrice, mandala a fanculo. Di solito le persone manipolatrici utilizzano triangolazioni, cioè si trovano, come dire, delle altre persone con le quali interagiscono, insomma, cercano di creare gelosie. Quando di fatto non ce ne sarebbe bisogno, no? E comunque tieni presente che il rapporto con le persone manipolatrici alla fine ti danneggerà e nel migliore delle ipotesi ti farà perdere tempo. Quindi è inutile che stai a cercare di trasformare, di cambiare, ma devi toglierti dai maroni fondamentalmente. Altre caratteristiche che spesso dicono delle cose che poi non vengono, non vengono, diciamo, messe in atto, no? Cioè banfano, dicono, ma non mantengono. Questo è quello che devi imparare a cogliere. Quindi poi vi sono diversi tipi di manipolatrici. Quelli più buoni, tra virgolette, e quelli che invece sono anche maligni da questo punto di vista. Ci sono persone a cui basta essere al centro dell'attenzione e il loro obiettivo, questo è un manipolatore egocentrico, ma di fatto non fa molto male. Invece persone che ti vanno a colpire nelle tue debolezze, a rilevare...